Avevano occupato abusivamente un'antica villa in fase di restauro nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce. Gli agenti della questura hanno denunciato al termine del sopralluogo un 34enne indiano, già noto alle forze dell'ordine con permesso di soggiorno scaduto, una 29enne leccese con un cane, un 25enne rumeno, un 18enne albanese e un 23enne gambiano. L'accusa mossa nei loro confronti ed occupazione ed immobile. Inoltre il 18enne albanese essendo stato trovato in possesso di una bicicletta bike sharing rubata anche per ricettazione mentre il 23enne Gambiano, essendo già sottoposto a due provvedimenti di espulsione emessi dal prefetto di Lecce, gli è stato notificato l'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Quattro dei cinque abusivi solo pochi giorni fa erano stati allontanati da un altro edificio in fase di ristrutturazione sempre nella vicinanza della stazione ferroviaria e anche in quell'occasione indagati per analogo reato.